Gentili telespettatori buona giornata. Fine anno all'insegna del sole sull'Italia con aria fredda soltanto sul nord. Sono queste le previsioni meteo per gli ultimi giorni del 2019 e il capodanno. Al momento permane un flusso di aria fredda proveniente dai Balcani al centro-sud. La neve è caduta anche a bassa quota sulle regioni adriatiche dal Molise all'Alta Puglia fino alla Calabria Ionica e alla Sicilia nord-orientale. Le condizioni instabili al sud si protrarranno fino a lunedì 30 con piovaschi ma da martedì 31 l'alta pressione porterà tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia con temperatura in graduale risalita. Il sole e un clima mite saluteranno il nuovo anno mercoledì 1 gennaio grazie all'anticiclone che porta una tregua dall'inverno soprattutto al nord. La massa d'aria proveniente dall'Africa porterà condizioni di caldo anche piuttosto anomalo sull'arco alpino occidentale dove al di sopra degli strati di inversione termica si raggiungeranno temperature molto superiori alla media del periodo. Il freddo dovrebbe tornare intorno all'epifania con nuovi flussi provenienti dal nord Europa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook e nella pagina Tele Italia Notizie dove trovate tanti video e tutti i video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete in internet e fuori da internet. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie.